salve a tutti sono valentino tafuri oggi insieme prepareremo un pan frutto per realizzare il pan frutto con albicocche candite utilizza una farina panettone una farina ad alto contenuto proteico con farina panettone petra e andremo a condire il nostro pane con le albicocche candite agrimontana e la pasta di limone vediamo insieme come preparare questa ricetta inseriamo la farina all'interno della planetaria subito entriamo con il lievito di birra questa ricetta prevede una lievitazione mista perché useremo il lievito di birra e lievito madre liquido entro anche con il liquido ovviamente è stato rinfrescato tre ore fa quindi è un lievito madre pronto già maturo entriamo con il latte non tutto ne mettiamo tre quarti il resto lo teniamo da parte le uova parto una velocità media e faccio girare la macchina per almeno quattro minuti l'importante che l'impasto si stacchi dai bordi così andiamo inserire il sale cosa farà il sale in questo momento ci darà una mano nel chiudere l'impasto perché il sale ci aiuterà a levare l'acqua alle proteine rendendoli più forte mettendoli insieme tra di loro l'impasto è un po duro vado ad inserire un altro po di latte è già staccato dai bordi ora faccio prendere un attimo il latte che ho inserito e dentro con il sale mi aiuto a far sciogliere il sale inserendo un altro po di latte il sale è stato assorbito dall'impasto entro con lo zucchero in due step lo faccio assorbire e metterò la restante parte daremo un lieve sentore di limone con la nostra pasta agrimontana al limone come vedete l'altra parte di latte mi sta accompagnando in tutta la ricetta così posso far sciogliere tutti gli ingredienti farvi amalgamare nel migliore dei modi l'impasto ha preso corda ha formato un'ottima maglia glutinica vado ad inserire il burro il burro deve essere stemperato ne mettiamo sempre un po alla volta aspettiamo che l'impasto lo assorba e continuiamo fin quando non abbiamo concluso tutto il burro l'odore di limone è spettacolare inseriamo tutto il burro e andremo a completare la ricetta con le albicocche candite questo pane sarà ottimo per la colazione soprattutto dopo una lieve tostatura intanto completiamo con l'inserimento del burro il burro è stato inserito nell'impasto ora prima di inserire i canditi rendiamoci conto del risultato ottenuto è importante al fine che l'impasto trattenga i canditi la buona maglia glutinica quindi l'impasto deve risultare liscio non deve spaccarsi possiamo dire che è pronto per le albicocche candite agrimontana mi raccomando in questa fase farò girare la macchina lentamente l'impasto è pronto ho preparato una bulla imburrata faremo riposare il nostro impasto per 60 minuti a temperatura ambiente vediamo un attimo il risultato come vedete i canditi restano tutti nell'impasto questo è una cosa importante vuol dire che si è creata un'ottima maglia glutinica questo anche grazie all'utilizzo della farina panettone una farina adatto contenuto proteico che ci aiuterà a far lievitare per più tempo il nostro prodotto trascorso il tempo di lievitazione andremo a tagliare in pezzi piccoli il nostro pane per uno stampo plum cake piccolo faremo dei panetti da 300 grammi come vedete grazie ad un'ottima farina e a un buon impasto i canditi sono rimasti incastrati tutti quanti nell'impasto in modo tale che quando andremo in cottura avremo la nostra albicocca candita agrimontana perfettamente distribuita nella fetta del pane ora creiamo delle bocce non molto strette le facciamo riposare 10 minuti e poi andremo a formare dei filoncini da far lievitare nuovamente i nostri panetti si sono rilassati ora possiamo procedere alla formatura ovviamente gli stampi sono stati impurrati la cosa importante in questo passaggio è chiudere il panetto nel migliore dei modi in modo tale che sia forza che abbia forza dall'inizio fino alla fine così facendo quando andranno a lievitare la nostra forma sarà perfettamente uguale dall'inizio alla fine il nostro pan frutto con albicocche candite lieviterà per due ore a 30 gradi dopo le ultime due ore di lievitazione a 30 gradi prepariamo una doratura con un uovo intero e 50 grammi di latte la doratura ci serve per rendere il prodotto appunto come dice il nome dorato dopo la cottura come vedete il pan frutto è ben lievitato quando lo vado a premere ritorna su in meno di due secondi vuol dire che è pronto per essere infornato dopo 20 minuti di cottura a 160 gradi ed altri 5 a 140 il nostro pan frutto è pronto andiamo a tagliare è un prodotto ottimo per la colazione potete tostarlo se vi va ad aggiungere un crunch ad ogni morso o per una splendida merenda il nostro pan frutto con pasta di limone ed albicocche candite agrimontana è pronto è un prodotto